buongiorno buongiorno ragazzi oggi vediamo un esercizio fantastico da svolgere al trx per rinforzare il tuo core quindi muscoli dell'addome e la spalle sia come potenziamento stabilità e proprio cessione è il pike press al trx ha un grandissimo transfert per quel che riguarda l'oscillazione del bacino nella farfalla e nella rana quindi inseriscilo nei tuoi workout come si svolge il pike press al trx ci posizioniamo a terra braccia distese mani larghezza delle spalle piedi al trx che deve essere circa 25 30 centimetri da terra da questa posizione una volta che hai preso la posizione di plank andiamo a spingere forte con le spalle e contrarre forte gli addominali per mandare verso l'alto il bacino per andare a formare un angolo di 90 gradi quindi dobbiamo cercare di chiuderci il più possibile portare in alto il bacino e cercare di posizionarci in posizione di verticale quindi cerchiamo di avvicinare come obiettivo la fronte alle ginocchia in modo da chiuderti a panino questo esercizio è ideale anche per migliorare la forza del core e imparare a chiuderti per girare più veloce durante le virate ritorna sempre parallelo a terra quindi senza scendere sotto il parallelo perché devi sempre mantenere glutei e addome contratto se vai sotto il parallelo potresti rischiare di inarcare la schiena quindi al posto di lavorare con l'addome andare a sovraccaricare la colonna e quindi avere anche dei fastidi quindi fermati sempre leggermente più in alto del parallelo con l'addome contratto per fare l'esercizio in sicurezza spingi su mi avvicino e ritorno bene metti in pratica questo fantastico esercizio perché ti farà migliorare le tue prestazioni in basca e ti farà rinforzare i muscoli del core per oggi è tutto ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video e stai con me